Un'autunna effervescente per la Wazong, Bruno Cavanna, siamo partiti con il trofeo CONI, siamo venuti con le telecamere di stelle nello sport a documentare quanto stavate facendo, si può dire risultati importanti? Senz'altro, i risultati ci sono stati, questo era un trofeo molto importante che vedeva i bambini dai 10 ai 14 anni di qualsiasi disciplina del CONI sfidarsi dopo aver fatto dell'eliminatore delle semifinali, fino a sfidarsi in finale direttamente a Cagliari. Noi abbiamo partecipato alle gare che erano a Villa Simius, un ambiente bellissimo, sembravano una sorta di mini olimpiadi di bambini, di ragazzini sopra i 10 anni e i nostri ragazzi erano tre della nostra squadra e si sono comparati benissimo. Addirittura siamo riusciti a prendere una medaglia di bronzo nella categoria freestyle che è questa nuova categoria di forme non più legata solo alla tradizione ma anche con elementi nuovi come la musica, come le acrobazie, cose molto belle e molto accattivanti anche per i ragazzi. In questo ci ha aiutato molto anche nella preparazione Michele Silvestri con il quale speriamo poi, non speriamo sicuramente, avremo di nuovo collaborazione in questo inverno con lui per poter portare avanti i nostri ragazzi anche per le prossime gare di freestyle. Michele Silvestri, protagonista del Galà di Stelle nello Sport in occasione appunto della vostra premiazione, festa dello sport che vi ha visto protagonisti, questo significa che alla promozione la Vosonga tiene moltissimo. Esatto, è vero. Noi siamo molto anche sui social perché crediamo anche al fatto che la comunicazione sia importante. A volte dico che faccio stalking ai nostri soci per tenerli informati, però come ben si sa una sola informazione tante volte viene dimenticata, dice non mi ricordo come, dove era, cosa dovevo fare, via di seguito. Però è quindi molto importante per me far sapere sia gli eventi che facciamo noi, sia dare informazioni ai nostri soci su quello che potrebbe essere gli eventi futuri. Tra gli appuntamenti, dopo il trofeo CONI, insomma c'è stata un'altra occasione importante per voi. Sì, siamo andati a Colonia, in Germania, una manifestazione che si chiamava Mulimpia, Euro Mulimpia, è una manifestazione a livello mondiale, viene fatta in Corea. Questa volta qua era per la prima volta in Europa. Raggruppavamo una sorta di più discipline sportive nell'ambito delle arti marziali. C'era sia il Taekwondo, che il Karate, che l'Apkido, che il Kung Fu e poi c'era la spada coreana. In questa disciplina siamo partiti noi dalla nostra associazione, una decina di persone, 12-13 persone, abbiamo portato a casa una trettina di medaglie, una cosa inverosimile però perché le discipline erano tante, sia forme che combattimento, sia nel Taekwondo che nella spada. Poi c'erano tutte le altre discipline della spada che possono essere di più e una gran bella festa, devo dire la verità. Competitività ce n'era, la competizione era abbastanza spinta, però il clima che si respirava era molto di festa. Taekwondo, spada coreana in salita superiore della noce. Come siete organizzati con i vostri corsi? Allora, i corsi li facciamo al martedì e al giovedì, principalmente corsi di Taekwondo, che poi vengono ampliati per i corsi dei grandi, diciamo per gli adulti, ragazzi adulti, con l'implementazione della preparazione atletica al mercoledì e al venerdì. Una parte basata più sulla forza e l'altra parte basata più sulle discipline olistiche, quali il Pilates o cose di questo tipo. Poi abbiamo anche corsi di Pilates ultimamente introdotti e ginnastica per la terza età per non farci mancare nulla.